ehi ragazzi ciao a tutti da nick e bentornati qua su farming simulator 19 ragazzi riprendiamo notate niente raga non notate per caso una grafica leggermente diversa ragazzi finalmente nick ha aggiunto una mod bellissima il nome è un po lunghetto e complicato perché in inglese diciamo che all'incirca la mod si chiama foto realistic foto realismo ho praticamente aggiunto una mod grafica raga e vi posso dire che mi piace molto di più naturalmente in descrizione vi lascio il link di questa mod ovviamente se volete provarla e scaricarla ovviamente so bene che devo anche fare un video dove vi spiego un po come si installano le mod lo so dovrei proprio farlo e guardate il verde ragazzi come bello che ve ne pare che cosa ve ne pare vi faccio vedere la differenza della mod attiva e della mod non attiva guardate un po mod attiva e mod disattivata la mod attualmente è disattivata andiamo a riattivare la mod cambia tutto vero se scaricate la mod volete attivare questo menu dovete praticamente tener premuto shift e poi schiacciate f2 funziona così ma di base la mod parte già attiva comunque una volta che la installate e non va installata nel modo classico va installata direttamente nella cartella del gioco in una cartella particolare ma comunque nel sito ci stanno le istruzioni allora ragazzi devo andare a prendere un po di erbicida perché praticamente dobbiamo uccidere un po di erbaccia non so se notate la sopra ragazzi due bellissime paleoliche lo dico perché magari qualcuno si è perso la live di ieri e quindi magari qualcuno non lo sa ma durante la live di ieri ho praticamente comprato un nuovo terreno nella live di ieri ragazzi ho comprato il terreno 5 e in più ho messo due paleoliche mo ve le faccio vedere praticamente praticamente ragazzi ho creato questo spiazzo qua ho creato questo spiazzo qui e ci ho messo queste due bellissime paleoliche vi lascio in descrizione anche il link della moda delle paleoliche che perché probabilmente qualcuno me lo chiederà queste paleoliche mi fanno guadagnare 1700 euro ogni ora e le ho pagate 220 mila euro 220 mila euro e 1700 euro ogni ora però cambia in base alla difficoltà se giocate a difficoltà facile guadagnate 1700 a difficoltà normale 1200 a difficoltà difficile non lo so ma sicuramente meno di 1000 euro al giorno e comunque ragazzi ci sta che è una meraviglia ho creato qui insomma sto spiazzo ci ho messo qua queste piante sta staccionata ci ho messo qui questa questa texture della roccia ci ho messo qui questi cespugli ho messo un paio di lampioni qua e là qui ce n'è uno qui ci ho messo sto scaffale tanto per abbellire poi ho creato una strada ovviamente lo dico per chi si è perso la live ho creato la strada che va fino all'altra strada il terreno 5 mio c'è già il mais sopra e niente abbiamo un mucchio di spazio qua inutilizzato nel terreno 5 quindi volendo io qua ci posso mettere magari qualche piantagione cioè nel senso qualcosa allevamento non lo so insomma mi sono dato da far ragà nello scorso gameplay durante la live dello scorso durante la live di ieri mi sono dato veramente da fa allora ho anche sistemato qua da suini come vedete qui ho raddrizzato un po meglio ci ho messo la texture delle rocce ho messo la staccionata qui ho creato un'altra strada che si collega con questa strada insomma durante la live di ieri mi sono dato veramente da fa mi sono dato da fa qui ho sistemato pure come potete notare ho cambiato la texture ci ho messo la ghiaia insomma mi sono dato da far ragà ho fatto un paio di cosette nella live di ieri comunque sia dobbiamo andare a rifornire di erbicida un certo mezzo questo qua qua c'è solo fertilizzante normale ci abbiamo un bel debito raga abbiamo un bel debito perché purtroppo ho dovuto comprare appunto il terreno 5 anche se a dia verità non mi serve però dato che ormai ce l'ho e non lo posso rivendere perché purtroppo ci ho piazzato sopra alcune cose e non me lo fa vendere quindi dato che ho comprato il terreno 5 vado praticamente a sfruttarlo con beh innanzitutto raccoglio quel mais che c'è sopra e poi in pratica voglio mettere l'erba sul terreno 5 e poi ci metto sopra gli alberi vorrei sfruttare il terreno 5 per per la legna dato che la segheria è dietro l'angolo no il terreno 5 quasi praticamente attaccato alla segheria quindi vorrei per l'appunto la sopra piazzare tutta sta bella roba non posso vendere il terreno dove c'ho gli alberi attualmente perché è lo stesso terreno in cui ci stanno le paleoliche quindi dove praticamente sto tagliando la legna mo ci metterò qualcos'altro vediamo il problema è che ancora non sono uscite delle mod che mi permettono di espandere un po ma non lo so per creare delle fabbriche purtroppo molte che aggiungono fabbriche ancora non ce n'è magari se mettevano che ne so la fabbrica del pane che ne so il panificio era bello mettevo quella un paio di cose ma purtroppo ancora niente qui ci abbiamo un po di barbabietole poi le raccogliamo no ma sta mod grafica è troppo bella raga allora riprendiamo quindi con l'erbaccia è cresciuto un po più del dovuto purtroppo è già matura l'erbaccia quindi la devo togliere per forza con l'erbicida ok bene accendiamo e vai così alla mod del course play per ora ce l'ho disattivata perché mi dava problemi quando creavo il terreno e quindi per ora è disattivata ma io qua dovrei sistemare la strada perché scendere così non è bello mi sto a divertire raga col sistema alle strade mi sto proprio a divertire mi sto divertendo un botto a sistemare le strade raga andiamo praticamente a spianare per benino qua bene questa che cos'è ghiaia o penso che ghiaia in pratica andiamo a mettere altra ghiaia se becco la texture questa è nome sa che ho messo della ghiaia dove buono ok tutto a posto non lo so ecco abbiamo una stradina per scendere anche di qua niente male niente 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 male sì qua dovrò danno sistemata vediamo poi magari durante la live di sabato perché ci vorrà un po di tempo così poi mi date qualche consiglio però la teniamo così che ultimamente ho già speso un mucchio di soldi in costruzione allora dobbiamo quindi andare su sul terreno 5 vi dicevo che poi ci voglio mettere gli alberi perché sinceramente a fare su e giù non mi va proprio di fare su e giù la non mi va proprio quindi ci metto direttamente gli alberi non ci penso più guardate un po ragazzi che belle le paleoliche ho speso un mucchio di soldi per piazzarle lì sopra però sono belle da vedere sono veramente belle da vedere quindi vi dicevo qui ragazzi una volta che tolgo tutti gli alberi non lo so ci metto qualcosa dovrò sfruttare questo spazio non ho scelta perché dove ci stanno le paleoliche diciamo che fa parte sempre di questo terreno qua quindi devo sfruttare in qualche modo quel terreno e non voglio sfruttarlo per gli alberi che è un po non mi piace molto come terreno questo terreno qui però non è mio quindi qua non posso fare ancora niente quindi ragazzi come potete vedere qui c'è la segheria no e praticamente il mio terreno è quello lì quello quello verde beh quindi praticamente io vorrei seminare alberi sul terreno 5 e poi da qui alla segheria è un attimo invece tutto lo spazio verde lo vorrei sfruttare per qualcos'altro alla fine non mi va di seminare qualcosa qui sopra ogni volta fare su e giù qua è una mega scocciatura questa stradina qui l'ho creata io questa strada qui l'ho fatta io non ho messo lampioni qua perché sono per il terreno non me lo faceva vendere sto notando solo ora sto notando solo ora che c'ho il mezzo troppo danneggiato vorrei mettere un punto per le riparazioni qua sopra però dove però 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 potrei metterlo qui il punto per le riparazioni quasi quasi raga lo mettiamo qua un bel punto per le riparazioni o sono arrivati dei soldi raga dalle paleoliche dei pannelli solari ottimo allora quindi ho messo un punto per le riparazioni qua vicino conviene averlo un punto per le riparazioni magari per riparare poi in futuro certo qualche mezzo qua ce lo devo mettere no quindi perché no questa strada quindi l'ho creata io raga spero che la live ieri non ve la siete persi allora vado qua e faccio una bella riparata perfetto a questo punto però c'è solo da aspettare dobbiamo aspettare che il terreno sia pronto per una nuova fase di sé e di fertilizzazione quindi diciamo che per ora vado semplicemente a parcheggiare il mezzo qua allora vediamo un po la situazione sul terreno abbiamo finito qui abbiamo finito devo rimuovere solo un po di erbaccia e poi devo andare su un altro terreno a rimuovere il bacio vediamo un po togliamo questa di erbaccia mo dobbiamo andare solo sul terreno 9 andiamo sul terreno 9 e poi non ho altro da fare posso mettere tranquillamente il gioco veloce sperando che non sperando che naturalmente non mi cresce erbaccia anche la sopra allora ha già l'erbicida soppirla ragazzi sono andato in negozio a comprare l'erbicida quando ho piazzato un distributore di erbicida qua e ma l'ho dimenticato va bene almeno appena finisce so dove comprarlo allora mo mi faccio un attimo qua che tanto io non ho niente da fa quanto mi piace sta mod ragazzi del fotorealismo è troppo bella mo veramente i colori so belli so così non lo so forse troppo colorati però a me piacciono a me piace così è più è più bello più verde vi faccio vedere un'altra volta se tolgo la mod ragazzi se tolgo la mod guardate quanta differenza ma soprattutto l'hdr è l'hdr quello che fa i miracoli fa veramente i miracoli l'hdr alla fine questi non fanno tanti miracoli questo rende hanno la vignettatura non mi piace clarity clarity un pochettino si vede ma l'hdr è quello che fa i miracoli poi se ci sta qualcos'altro non lo so non c'è altro no fa veramente i miracoli l'hdr togliamo quello che non mi serve benissimo comunque va mi faccio un attimo qua tolgo star baccia e poi possiamo andare avanti dai ragà che non manca molto intanto sicuramente volete vedere quanto debito abbiamo attualmente no teniamo un po 265 mila euro praticamente all'incirca il costo del terreno 5 purtroppo l'ho dovuto comprare e non l'ho potuto vendere il 4 l'avevo comprato pure ma poi l'ho venduto alla fine ho solo creato la strada però se piazzi degli oggetti sul terreno poi il terreno non te lo fa vendere e quindi insomma va beh ma però ovviamente ne facciamo uso del terreno 5 ci raccogliamo ci mettiamo poi insomma la legna ci mettiamo poi la legna la risolviamo così ormai qua mi manca comunque poco e finisco devo controllare i cavalli a che a proposito in generale 34 su pulizia ma devo andare a pulire i suini vero e razione mista ne dovrei fare un po 17 mila 42 mila bono famo una bella cosa raga devo andare a pulire devo devo portare un mezzo direttamente qua per pulire perché ogni volta fa avanti e indietro non è bello se mi faccio un altro piccolo prestito tanto ormai giusto un piccolo mezzo per pulire qua che mi sono rotto le scatole ormai tanto vale caricatore frontale no questo mucchio di soldi non ne vale la pena me è una posta di meno la pala caricatrice più economica ne compro un'altra per pulire va più che bene pala caricatrice con un'altra bella benna una bella benna benna pala caricatrice una benna mille due compra perfetto quindi andiamo un attimino a prendere stava la caricatrice qual era la velocità massima ma vediamo se la trovo ovviamente eccola qua 18 km orari vabbè ci metterò un po ma sicuramente vabbè se devo venire qua col camion ci perdo solo più tempo portiamo sta pala che portiamo sta pala caricatrice dai suini raga lo so che costa ma i soldi si fanno poi con i cavalli tra poco li vendiamo ed eccoci qua finalmente ragazzi siamo arrivati era ora non so se ci entra un capanno qua ma giustamente penso che ci vuole perché naturalmente tenere sto mezzo così mo così buttato fuori non è neanche bello comunque praticamente questo qua lo usiamo per pulire qua ok una bella pulita è quello che ci vuole finché non arriva lo leli uno perfetto ok allora quindi praticamente raga vediamo un po la situazione magari poi qua sistemiamo ci mettiamo un capanno devo però prima andare a rifornire sto mezzo di erbicida e purtroppo è finito l'erbicida per fortuna e non è molto lontano da comprare allora praticamente ho messo questo qua per comprare l'erbicida e torna proprio utile qua intanto che fa male il pieno diamo un'occhiata se posso sistemare qualcosa questo quindi ci uniamo qua e facciamo una cosa carina così 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 qua ci colleghiamo qua pure qua vediamo ecco qua per entrare per di qua a posto così 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 vado a creare insomma delle stradine extra ho già finito i soldi mamma mia ho già addirittura finiti i soldi ok insomma ho creato un po di stradine quella ecco mi serve un capanno piccolo qualcosa di 9000 euro ma questo forse va bene sì questo non è poi grande vediamo direi proprio di sì dovrei livellare un po il terreno però dovrei dargli una piccola livellata quindi diciamo che vediamo no ho sbagliato tasto vabbè si aspetta ci mettiamo la terra qua sotto facciamo così ora vorrei scolpire così ecco poi qua livelliamo perfetto che ve ne pare raga buono no quindi andiamo a mettere l'erbicita di nuovo sul terreno numero 9 intanto almeno ho dato una bella una bella sistemata vediamo un po quindi lì ci sta l'edificio insomma che ho messo il capanno così ci vado a mettere dentro il nuovo la nuova palla caricatrice che ho comprato ho sistemato meglio un po qua per terra con della terra muovo proprio bene perfetto così mi manca sto pezzetto qua fatto allora vado un attimo a parcheggiare questo qua e poi e poi vediamo poi anzi no aspetta volendo lo posso andare a parcheggiare nel nuovo capanno che l'ho comprato per niente vediamo se riesco a passare per di qua andiamo a parcheggiare nel nuovo capanno così lo proviamo oh oh ok accidenti meno male che non ci sbatto però eh questo è un bel problema qui dovrei dargli una sistemata però non importa se è più basso il trigger quello che conta quello che conta è che comunque lo becchiamo quando scarico non importa se poi è più insomma il trigger muoio più in alto ma non importa quello che conta quello che conta insomma quello che conta è che posso scaricare e via comunque qua non mi piace ancora così sì qua gli devo dare una bella livellata a posto ok bene quindi vado qua e gli do da mangiare intanto ragazzi sto notando un'altra cosa che dovrei sistemare ormai mi sta piacendo proprio sistemare le cose praticamente qua dovrei metterci un po' di roccia x roccia eccola qua ovviamente ci vuole un po' di roccia qua e là bene un po' di roccia qua e là vediamo qua per abbellire un po' però se riesco vorrei un pochettino con i soldi che mi avanzano con i soldi che mi avanzano se riesco ok e voglio dare un attimo una sistemata mi piace proprio ragazzi stiamo alle cose mi piace un po' meglio almeno la strada è leggermente migliore leggermente vado ragazzi noto che il tempo vola via penso che per il momento mi fermo qua spero tanto che questo gameplay vi sia piaciuto mi raccomando come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione in su ci becchiamo presto naturalmente vi dicevo che in descrizione vi lascio i link delle mod che vi ho fatto vedere oggi e naturalmente trovate anche un link che vi permette di comprare farming scontato ragazzi ciao alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!